Un cordiale benvenuto dagli amici in bici. Ci troviamo in quel di Sorgà con le telecamere guidate da Massimo Gallesi per raccontarvi le fasi più salienti del 27esimo Memorial Vincenzo Mantovani, una manifestazione riservata ai dilettanti Under 21, Under 23 ed Elite. Prima del via della gara riservata agli Under 21, che è stato dato dal patron Claudio Mantovani, che aveva al suo fianco l'idolo locale Dino Leardini, è stato rispettato un minuto di silenzio per le vittime del Belgio e della Spagna. Intorno al quarantesimo chilometro di gara si verifica la fuga che anima praticamente tutta la corsa. Al suono della campana però il gruppo infrange il sogno dei 14 Bratistrada e allora ci si prepara al più tradizionale degli sprint, ovvero quello a ranghi compatti. Sul rettilineo d'arrivo vediamo il marocchino Ahmed Amin Goldun, primo centro stagionale per lui, che si libera della marcatura degli avversari e piazza la zampata vincente. Con lui sul podio arrivano Leonardo Federigo della Cipollini Rime e Gianmarco Begnoni della Zampata.